Ciao ragazzi! Sono felicissimo di annunciarvi che dal 20 settembre sarà disponibile in libreria il mio libro E da oggi in tutti gli store online Cosa c'è? Vuoi giocare a nascondino? No, 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 sto presentando, mi lascio un attimo in pace Mi vado a nascondere Non mi vedi? Perché mi sono nascosto troppo bene Dicevo Ho vinto Dal 20 settembre Scusate Quindi ricapitano, il 20 settembre uscirà e quindi non vedo l'ora di lanciare il mio libro Anch'io Ciao!